Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'incidenza della povertà assoluta in Italia nel 2021 è stata pari al 7,5% tra le famiglie e al 9,4% tra gli individui, valori stabili rispetto all'anno precedente. Nel complesso si tratta di oltre 1.950.000 famiglie, per un totale di circa 5.600.000 persone. Il 2021 è stato ancora caratterizzato dalla pandemia, ma con una forte ripresa economica, con il PIL cresciuto del 6,6%. Le spese per i consumi sono tornate a crescere, ma non hanno compensato la caduta del 2020. Il calo è stato del 4,7% nel confronto con il 2019. La povertà è quindi sostanzialmente stabile rispetto al 2020 per via, da un lato, di un incremento più contenuto della spesa delle famiglie, meno abbienti e dall'altro per la ripresa dell'inflazione, senza la quale la quota di famiglie in povertà assoluta scenderebbe al 7% e quella degli individui all'8,8%. Nel 2021 si contano oltre 108.000 famiglie in meno in condizioni di povertà assoluta al nord, andamento posto nel mezzogiorno, dove la povertà assoluta cresce e riguarda il 10% delle famiglie.